Cinque mesi dopo le vicende di Corto Maltese, il vigilante pacifista Christopher Chris Smith, noto come Peacemaker, si riprende dalle ferite riportate nello scontro con Bloodsport, nell'ospedale della sua città natale Evergreen. Tornato alla sua roulotte, Chris ascolta alcuni deliranti messaggi lasciati dal folle giustiziere Vigilante, suo collega occasionale in alcune pattuglie da supereroe, e subito dopo subisce un'imboscata dagli agenti Argus, Clemson Mern, Leota Adebaio, Emilia Hercourt e John Economos, che gli rivelano che Amanda Waller ha deciso di reclutarlo nella loro task force per portare a termine un'operazione nota come Progetto Butterfly. Pur con estrema riluttanza, Chris è costretto ad accettare, pena, il ritorno in prigione o la morte per mano della bomba inserita nel suo cranio a seguito della sua missione con la Task Force X. Chris si reca da suo padre August Smith per ottenere un nuovo equipaggiamento e per recuperare la sua aquila domestica Igli. Oggy, un ex supercriminale ormai in pensione, è un suprematista bianco e ha un rapporto estremamente conflittuale con il figlio, a cui costruisce degli speciali elmetti dotati di poteri particolari solo per fargli uccidere le minoranze etniche, cosa che mette a disagio Peacemaker e danneggia la sua reputazione. Contemporaneamente, al covo della squadra, Harcourt ed Economos rivelano alla novellina Adebaio di essere stati inseriti nella squadra come punizione per aver aiutato la Suicide Squad contro Starro il Conquistatore, e la mettono in guardia sui tradimenti che la Waller è capace di fare verso i suoi stessi sottoposti. Alla sera il gruppo ha un primo briefing, in cui Peacemaker scopre che il loro primo obiettivo è un senatore degli Stati Uniti. Al termine della riunione, Chris stringe amicizia con Adebaio e segue Harcourt in un bar, provando a flertare con lei, ma dopo essere stato respinto decide di passare la serata con Annie Sterfhausen, una cliente del bar con cui ha un rapporto sessuale. La donna, tuttavia, si rivela essere una delle misteriose farfalle a cui la squadra dà la caccia. Dopo uno scontro brutale, Chris riesce a ucciderla con uno dei propri elmetti, ma sente in lontananza le sirene della polizia che si avvicinano al luogo. Nell'appartamento che condivide con la moglie Keia, Adebaio viene incaricata da Amanda Waller, in realtà sua madre, di prelevare un diario creato da un falsario per una missione che dovrà nascondere ai compagni di squadra. Grazie al supporto di Adebaio e di Harcourt, Peacemaker riesce a fuggire dall'appartamento di Sterfhausen, sfuggendo ai poliziotti guidati dai detective Sophie Song e Larry Fitz Fitzgibbon. Informato della situazione, Mern incarica Economos di sostituire le impronte digitali di Chris e la targa della sua auto con quelle di qualcun altro, ma si infuria quando il collega sceglie Huggy come capro espiatorio. Mentre i membri del team si accusano a vicenda di aver informato il nemico, Peacemaker risolve la situazione rivelando di aver accidentalmente fatto leggere a Sterfhausen il fascicolo sul progetto Butterfly, aumentando il disprezzo degli altri nei suoi confronti. Mern è così costretto a incaricare Adebaio di corrompere i coniugi Calcaterra, presi nostaggio da Peacemaker nella fuga dall'appartamento, al fine di fargli testimoniare il falso. Grazie alle finte prove, Song e Fitzgibbon possono arrestare Huggy per l'omicidio. Tornato nella sua roulotte, Chris scoppia a piangere ripensando alla morte di Rick Flagg e al suo atteggiamento tossico verso il prossimo. Poco dopo alla roulotte, arriva Vigilante, che tenta goffamente di consolare l'amico definendo quelli come loro assassini nati. I due giustizieri si sfogano sparando in un bosco e consumando un rapporto a tre con Amber Calcaterra, ma dopo aver fumato dell'erba, Chris scopre che Sterfhausen era in possesso di una minuscola astronave, intuendo così che le farfalle hanno origine aliena. Portato in prigione da Song, Huggy viene inneggiato dagli altri detenuti razzisti, che lo chiamano con il suo nome da supercriminale, Drago Bianco. Dopo un incontro surreale con Vigilante, la squadra si reca verso la residenza del loro primo obiettivo, il senatore degli Stati Uniti, Roiland Goff. Durante il viaggio, Chris scopre che potrebbe essere costretto ad uccidere i figli di Goff, cosa che lo mette a disagio nonostante le sue passate dichiarazioni sulla sua assenza di scrupoli. Dopo essere stati raggiunti da Vigilante nel giardino della villa di Goff, Harcourt e Peacemaker scoprono con orrore che l'intera famiglia del senatore è composta da farfalle. Murn incarica Peacemaker di ucciderli, ma Chris ha un attacco di panico e usa una scusa per non sparare ai figli del senatore. Vigilante si offre al suo posto e stermina a sangue freddo la famiglia Goff. Prima di poter uccidere anche il senatore, il trio viene attaccato dal mercenario Judo Master, che sconfigge Peacemaker e Vigilante e li porta da Goff. Con l'aiuto di Adebaio, Harcourt è costretta ad uccidere una guardia del corpo di Goff prima di entrare nella villa insieme a Murn. Il senatore, nel frattempo, tortura e interroga Vigilante, che si rivela essere Adrian Chase, un vecchio conoscente di Chris. Intuendo che la squadra rappresenti una minaccia, Goff manda Judo Master ad avvisare le altre farfalle, ma il mercenario viene investito e tramortito da Economos una volta varcati i cancelli della villa. Utilizzando un esplosivo sperimentale, Murn riesce a creare un barco nel covo di Goff, ma rimane coinvolto nell'esplosione. Grazie a questa distrazione, Peacemaker si libera e dopo un combattimento con Goff, riesce apparentemente ad ucciderlo sparandogli in faccia. Dopo aver liberato Adrian, tuttavia, nota con orrore una creatura simile ad un insetto uscire dal cadavere del senatore, facendogli capire la vera natura delle farfalle. Sul computer della squadra, nel frattempo, viene mostrato come le farfalle siano una realtà sparsa in tutto il mondo. Tornati al quartier generale, dopo l'omicidio di Goff, i componenti della squadra, a cui si è stabilmente aggiunto vigilante, sono divisi dagli ultimi avvenimenti. Harcourt e Liota hanno una discussione sulla morte della guardia del corpo di Goff, mentre Murn rimprovera Peacemaker per la sua esitazione ad uccidere i figli del senatore, ricordandogli il suo credo di essere disposto ad uccidere chiunque per la causa della pace. Economos, nel frattempo, si prende cura di Judo Master, catturato dalla squadra per essere interrogato sulle farfalle. Chris e Adrian si recano a casa di Oggie per prelevare nuovi elmetti e litigano per il fatto che Peacemaker ha permesso a Goff di torturare l'amico. Una volta all'esterno, Chris scopre da un vicino che Oggie è stato arrestato al suo posto e, nonostante i pareri contrari di Murn e Adebayo, si reca in prigione per raccontare tutto al padre. Questo porta alla rottura definitiva tra i due e Oggie minaccia di spifferare ai detective la responsabilità di suo figlio. Riconoscendo Adrian come vigilante, Adebayo prova a convincerlo che il modo migliore per aiutare Chris sia sbarazzarsi di suo padre per liberarlo dalla sua influenza. Adrian escogita così un piano per uccidere Oggie, sfondando una finestra della stazione di polizia di Evergreen e facendosi arrestare. Una volta portato in prigione, egli si avvicina al gruppo degli ariani e li provoca per scatenare una rissa mortale. Ma Oggie si accorge del suo piano e fa in modo di non rimanere coinvolto nello scontro. A peggiorare la situazione, l'ex supercriminale si convince dalle parole di Adrian che Chris voglia ucciderlo, portandolo a richiedere un incontro con Song e Fitzgibbon. Quella sera Adrian viene invece liberato da Arkurt, confessandole di aver peggiorato la situazione. Nel frattempo Judo Master riesce a liberarsi e pesta brutalmente Economos, poco prima dell'arrivo di Adebayo e Peacemaker, con cui ingaggia uno scontro alla pari. Durante il duello, tuttavia, l'artista marziale prova a spiegare la vera motivazione delle farfalle al suo avversario, ma prima di poterlo fare, viene colpito al petto da Adebayo e mandato in coma. Mentre Mern rimprovera i suoi sottoposti per gli ultimi avvenimenti, un sempre più dubbioso Peacemaker torna alla sua roulotte dove ritrova Igli e la farfalla presente nel cadavere di Goff, che ha deciso di tenere come animale domestico a insaputa degli altri. Dopo aver sentito Adebayo parlare del suo passato, Chris chiede ad Arkurt cosa è scritto nel suo fascicolo e la collega gli parla dei suoi rapporti burrascosi col padre e della morte misteriosa di suo fratello Kit, che a quanto pare lo avrebbero segnato indelebilmente. Tornato nella sua roulotte, Chris passa la serata ballando e fumando marijuana per superare lo stress degli ultimi avvenimenti, e in questa occasione ripensa alle sue vittime che più lo hanno segnato, ovvero il primo uomo che fu costretto ad uccidere per ordine di suo padre, Rick Flagg, e suo fratello Kit. Trovando una connessione tra Annie Sterfausen e Goff, Adebayo avvisa Mern che a sua insaputa è in realtà una farfalla. Al quartier generale Mern spiega a Peacemaker e Vigilante che le farfalle sono delle creature aliene che si infiltrano dagli orifizi per uccidere le altre forme di vita e prendere il controllo del loro corpo e delle loro memorie. Dopo che Mern ha portato alla luce il problema a seguito di indagini private, Waller ha quindi autorizzato un'indagine non ufficiale spostando fondi di altre operazioni per creare il progetto Butterfly. La spiegazione viene tuttavia interrotta dall'ennesimo litigio tra Economos e Peacemaker, furente con il collega per aver incastrato suo padre. Il gruppo parte quindi alla volta della compagnia di imbottigliamento Glenn Tye, in cui lavorava Annie Sterfausen e a cui era legato Goff. Mentre Economos resta di guardia, gli altri si dividono in due gruppi e Vigilante e Harcourt scoprono che nella fabbrica viene prodotto il misterioso liquido ambrato di cui si nutrono le farfalle. Adebayo e Peacemaker scoprono invece che tutti gli operai sono in realtà alieni sotto copertura e provvedono ad eliminarli, ma insieme ai compagni cadono in un'imboscata del guardiano della fabbrica, una farfalla che ha preso possesso del gorilla Charlie. La squadra viene rapidamente sconfitta, ma prima che Charlie possa uccidere Chris interviene Economos, che sventra il nemico con un motosega, guadagnandosi il rispetto degli altri. Il gruppo completa così la missione e può tornare alla base. Nel frattempo Murn riceve la visita di Kaspar Locke, un sinistro mercenario di sua conoscenza assoldato da Waller per mantenere Oggy dietro alle sbarre. Questi sostituisce il capitano della polizia locale e chiude le indagini di Song, che era riuscita nel frattempo a collegare le impronte dell'omicidio Sterfhausen a Peacemaker grazie a una soffiata di suo padre, e aveva risentito i testimoni scoprendo che erano stati corrotti. Non volendo mollare la pista, la poliziotta si reca insieme a Fitzgibbon da un suo zio giudice per scavalcare Locke e risolvere la faccenda. La squadra ottiene da Murn la serata libera dopo il successo della missione, e Harcourt crea un gruppo Whatsapp. Chris porta Debaio nella sua roulotte per festeggiare insieme e le mostra la foto di Kit e un ritaglio di giornale sulla sua prima azione da supereroe, l'arresto del supercriminale Kite Man. A Debaio esorta quindi l'amico ad essere più se stesso e di non nascondersi dietro alla maschera di Peacemaker. Tuttavia, quando Chris si distrae, A Debaio è costretta a malincuore a eseguire la missione affidata a Leda Waller, nascondendo un finto diario nella roulotte. Tornata al quartier generale della squadra, A Debaio indossa l'elmetto con la visione ai raggi X di Peacemaker, e scopre con orrore che Murn è una farfalla, venendo immediatamente inseguita e catturata prima di poter scappare. Murn rassicura A Debaio promettendole di non farle del male, e i due vengono raggiunti da Harcourt, che conferma di aver intuito insieme ad Economos la vera natura del loro leader, dopo essere sopravvissuto all'esplosione nella villa di Goff. Murn rivela quindi di essere una farfalla di nome Ic-Nobel-Lok, e di aver disertato dalla sua specie per i loro metodi privi di scrupoli. Racconta inoltre che la farfalla trovata nel corpo di Goff è in realtà la regina della specie, Eakstak Ikik, e che il vero obiettivo della squadra è quello di uccidere la Mucca, una creatura aliena che rifornisce le farfalle del loro liquido ambrato, unica fonte di cibo che può sostenerle. Il giorno dopo, Oggy viene liberato di prigione da Song e Fitzgibbon, che organizzano le forze di polizia per arrestare Peacemaker. Quest'ultimo, dopo aver visitato la classe della figlia del suo amico Jamil, torna alla sua roulotte insieme ad Adrian, dove scopre che Eakstak Ikik vuole comunicare con lui disegnando il simbolo della pace su un barattolo. I due, tuttavia, vengono interrotti dai poliziotti e sono costretti a scappare insieme ad Eakly, ma durante la fuga, Vigilante fa cadere il barattolo con all'interno la farfalla, che ne approfitta per uccidere Song e prendere il controllo del suo corpo. Peacemaker, Vigilante ed Eakly riescono invece a fuggire grazie al provvidenziale intervento di Caspar Locke, che recupera il finto diario di Peacemaker nella sua roulotte. Riunitosi con gli altri componenti del gruppo, Chris si rende conto che i suoi amici gli nascondono qualcosa e se ne rammarica, mentre Economos informa il gruppo di essere riuscito ad identificare la base delle farfalle nel Coverdale Ranch, ipotizzando che la mucca sia nascosta lì. Alla sera, Eakstak Ikik nel corpo di Song guida un esercito di farfalle da tutto il mondo per assaltare la stazione di polizia, uccidendo Fitzgibbon, Locke e la maggior parte dei poliziotti e dei detenuti di Evergreen, prendendo il possesso dei loro corpi. Contemporaneamente Oggy decide di uccidere il figlio e dopo aver rifondato l'impero ariano, torna ad indossare i panni di Drago Bianco, venendo acclamato dai suoi seguaci. Rimasto solo con Harcourt, Chris rivela all'amica di non voler più uccidere nessun essere umano dopo la morte di Flagg e si mette a suonare per esprimere il proprio nuovo stato d'animo. I due, tuttavia, fanno insieme a Vigilante una sconvolgente scoperta. In tv le farfalle che controllano i poliziotti mostrano il finto diario, che si rivela essere una finta confessione fatta scrivere da Waller per incastrare peacemaker di ogni delitto commesso dalla squadra, e Locke nomina ufficialmente il Vigilante un pericolo pubblico. In un flashback, il giovane Chris e il fratello maggiore Kit sono costretti da Huggy a combattere un match di pugilato per il suo giro di scommesse clandestine. Durante l'incontro, Chris viene esortato dal padre a colpire più forte, ma in questo modo finisce per far sbattere la testa di Kit contro un masso, provocandogli un trauma cranico. Questo evento incrina il rapporto tra Huggy e Chris e traumatizzerà per sempre il ragazzo, spingendolo a dedicare la propria vita alla causa della pace per redimersi e superare il senso di colpa. Nel presente, Chris rinnega Debaio e il resto della squadra per averlo manipolato tutto il tempo e parte insieme a Vigilante, Igli e un riluttante Economos per uccidere la mucca una volta per tutte, senza accorgersi che Judo Master è riuscito a scappare. Harcourt si reca nel motel in cui alloggiano i membri del team e affronta Debaio per aver tradito Peacemaker, scoprendo che è la figlia di Amanda Waller e che è stata spinta a prendere parte alla missione sfruttando un suo momento di difficoltà economica. In quel momento però le farfalle riescono ad arrivare al motel grazie ai ricordi di Caspar Locke e Ig Nobel Locke decide di sacrificarsi per salvare le compagne, attirando l'attenzione dei nemici e venendo ucciso da Heakstak Ikik. Una volta andate via le farfalle, Harcourt a Debaio assistono impotenti alla morte del loro amico poco prima di subire l'attacco di Judo Master, che riescono a sconfiggere lavorando insieme. Nel frattempo i ragazzi vengono attaccati da Drago Bianco e dai componenti dell'impero ariano, e Vigilante rimane indietro per permettere ai suoi amici di scappare. Chris ed Economos capiscono che i nemici riescono a rintracciarlo grazie al segnalatore nell'elmetto di Peacemaker e se ne sbarazzano per depistarli, ma quando vengono recuperati da Adrian, si accorgono che quest'ultimo ha rubato la macchina in cui l'impero ariano custodiva gli altri elmetti. Chris si allontana per sbarazzarsene, ma viene raggiunto da Drago Bianco, che ferisce gravemente Igli e pesta brutalmente il figlio. Davanti ai suoi scagnozzi, il supercriminale proclama in modo delirante tutto l'odio che prova per il figlio e per i suoi comportamenti anticonformisti. Ma quando si prepara ad ucciderlo, viene attaccato da vigilante che danneggia la sua armatura, mentre Economos uccide i membri dell'impero ariano. Chris pesta quindi suo padre per sfogarsi di tutti gli abusi che ha subito da lui e dopo l'ennesima provocazione del genitore, lo uccide sparandogli in testa. I membri del team si riuniscono in una clinica veterinaria in cui Igli viene curato da alcuni infermieri. Con la morte di Murn, la squadra nomina Harcourt come nuova leader e si reca al Coverdale Ranch per chiudere definitivamente i conti con le farfalle. Nonostante a Debaio provi a chiedergli scusa, Peacemaker si rifiuta di perdonarla e torna a ribadire il proprio credo, ovvero la difesa della pace a qualsiasi prezzo. Dopo aver chiesto a Waller di chiedere aiuto alla Justice League, la squadra escogita un piano, affidando ad Igli un elmetto in grado di provocare forti onde soniche, in grado di apportare grandi danni al Ranch prima del loro attacco. L'Aquila tuttavia non comprende l'ordine e scarica l'elmetto in un bosco vicino, costringendo il gruppo a cercarlo, dividendosi in piccoli gruppi. In quell'occasione Chris ha un'allucinazione di suo padre con cui finisce per litigare, preoccupando Harcourt che però riesce a ritrovare il suo elmetto. Peacemaker uccide una delle farfalle e dà i suoi vestiti ad Economos, che può così infiltrarsi nel ranch per posizionare l'elmetto. Nonostante venga scoperto dalle farfalle, il piano viene portato a termine e Adebaio danneggia il ranch con l'elmetto sonico, creando un diversivo per permettere a Peacemaker, vigilante Harcourt, di affrontare le farfalle in campo aperto. Nello scontro che segue, Peacemaker riesce ad infiltrarsi nel ranch e numerose farfalle, tra cui Fitzgibbon, vengono uccise, ma vigilante Harcourt finiscono per essere feriti gravemente. Per impedire che Harcourt venga uccisa e infettata da una farfalla, Adebaio interviene personalmente e stermina i nemici rimasti grazie all'addestramento impartitogli dalla madre, entrando nel ranch per aiutare Chris. Quest'ultimo viene attaccato e sconfitto da Ekstak Ikik, che però decide di non ucciderlo, e lo porta davanti alla mucca. Insieme alla farfalla che controlla Kaspar Lok, la regina spiega a Chris che il vero obiettivo delle farfalle, è prendere il controllo delle figure politiche di spicco per impedire agli esseri umani di distruggere il loro pianeta con l'inquinamento, come avevano fatto le farfalle in precedenza con il loro. Ringraziandolo per averla accudita per alcuni giorni, Ekstak Ikik propone a Peacemaker di schierarsi insieme a loro per la difesa della pace, come aveva fatto in passato Judo Master, lasciando al supereroe la scelta di uccidere la mucca o di aiutarli a teletrasportarla in un luogo sicuro. Turbato e pieno di dubbi, Chris ripensa alle sue recenti esperienze e comprende di non poter più accettare di sacrificare la propria moralità e i propri amici per una pace utopica e sceglie pertanto di sparare alle farfalle, aiutando a Debaio ad uccidere la mucca e completando così la missione. Dopo un battibecco con la Justice League arrivata a scontro finito e senza dare alcun contributo, il gruppo si reca in ospedale dove vigilante Economos e Harcourt ricevono cure mediche e Chris e Adebaio si riconciliano, essendo consapevoli di aver preso una scelta che, seppur sofferta, gli ha permesso di non tradire i loro amici. Mentre Judo Master piange per la morte delle farfalle al Coverdale Ranch, Adebaio riabilita l'immagine di Peacemaker, rivelando al mondo l'esistenza della Task Force X. Con la missione ormai terminata, la squadra viene sciolta e i suoi componenti proseguono nelle loro vite. Adebaio si ricongiunge con la moglie Kia, Harcourt si riprende in ospedale dalle ferite riportate, Economos torna ad essere il direttore di Bell Reeve e Vigilante riprende le sue avventure insieme a Peacemaker. Tornato nella sua roulotte, Chris beve birra in compagnia di Igli e di X-Tac Ikik, che in assenza di cibo decide di passare i suoi ultimi giorni con i suoi ex avversari. Tuttavia Chris ha ancora un'allucinazione di Oggy, che probabilmente continuerà a tormentarlo in futuro. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti. Grazie a tutti.